L'allievo deve chiudere gli occhi e la mente, mentre il maestro si fa la sua fidanzata. Chi perpegue la terapia della saggiatura universale, io ho reso certamente questo libro. Dimento, oggi più rapido di ieri e domani più rapido di oggi, se no a fine mese non ci fanno. Ricordare il parale del maestro, ieri è storia, domani è mistero, oggi è gnocchi. Sì, non lo faccio! No, no! Scusate! No, no, no! Che abbiamo riempito al vuoto! Sì, è spettato qui! Oh no! E' quanto donate voi i sensi che ti raccogliate veramente? Qualche cosa devo dirselo, tanta ragazza? No! Non ha come se si deve essere! Cerca l'infinito! Fai far via questa terra, lì c'è la corriera, non si può sbagliare! No! Vai fungo! Vai, la in! E quando passi dal mondo della paella, acquiati della realtà e scopri di avere una riccola! Realizza la forza che hai in te, fai uscire ciò che è meglio a tu, se non te la fai aiutati con una furia! No! 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 No!